L'assessorato al turismo della Regione Lazio vi invita a scoprire insieme le feste tradizionali dei comuni della Regione. Dal 7 al 21 dicembre a Minturno in provincia di Latina, Natale al Castello, mostra del presepe, dell'artigianato, dell'antiquariato e dell'oggettistica. La rassegna verrà allestita nelle restaurate sale del Castello Baronale che ospitò personaggi illustri, tra i quali Santo Maso d'Aquino. Promozione delle feste tradizionali dei comuni della Regione Lazio, a cura dell'Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio.